E' probabilmente il momento decisivo della stagione per la Fidelissandria, domani pomeriggio sul terreno del Degli Ulivi, Biancoazzurri affronteranno l'Acragas in una sfida fondamentale, in ottica salvezza. La formazione siciliana ultima in classifica e retrocessa matematicamente in Serie D rappresenta uno degli ultimi scogli da superare per la squadra di Aldo Papagni, una gara che secondo il tecnico Bicegliesse potrebbe nascondere delle insidie. Intanto abbiamo compreso che non sarà semplice perché gli ultimi risultati ci dicono di essere particolarmente concentrati e rispettosi di una squadra che due settimane fa ha pareggiato a Cosenza e la settimana scorsa ha perso di misura con Francavilla disputando una buona gara. Senza parlare della sconfitta con il Trapani che li ha visti in partita sino alla fine della gara per cui le insidie le conosciamo, le abbiamo anche visualizzate e siamo consapevoli di dover continuare quello che abbiamo cominciato da un mesetto a questa parte, un percorso di grande sacrificio, di grande attenzione e siamo pronti a giocarci delle chance importanti per domani. L'obiettivo di Papagni e della Fidelis è quello di dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi contando necessariamente anche sull'apporto del pubblico andriese. Con delle prestazioni anche importanti sotto il profilo del gioco e come dicevo prima quello che dobbiamo fare è continuare a seguire questa traccia, questa strada tracciata qualche settimana fa e con l'aiuto del nostro pubblico che come dicevo ai vostri colleghi domenica scorsa ci hanno regalato una cornice importantissima e una vicinanza fondamentale per questo finale di campionato crediamo di poter raggiungere quell'obiettivo che a noi preme quello del 6 maggio per cui al di là di quelli che sono i risultati positivi degli ultimi tempi quello che ci preme in questo momento è mettere un altro mattoncino importante per la salvezza. Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo contro i siciliani il tecnico biscegliese dovrà ancora una volta far fronte ad alcune defezioni convocando anche calciatori che si sono allenati pochissimo in settimana. Dalla regina in poi abbiamo avuto 6-7 assenze importanti, questa settimana abbiamo avuto diversi giocatori che non si sono allenati di Cosmo e Out per la prima volta dopo 3-4 mesi, abbiamo anche Abruzzese con qualche problemino vediamo, valutiamo l'unico aspetto positivo è che ultimamente siamo stati abituati, la settimana scorsa avevamo 4 centrocampisti fuori a queste assenze per cui i ragazzi hanno mostrato di poter disputare comunque quelli che riscenderanno in campo una buona gara. Grazie. Grazie. Grazie.